Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video risolveremo i quesiti di logica, matematica e fisica presenti nella simulazione numero 1 del talk medicina CISIA. In particolare CISIA ha rilasciato questa simulazione come allenamento per il test di medicina. Ne ha rilasciate tre, questa è la simulazione 1. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto e se volete anche il video sulla simulazione 2 e la simulazione 3. Come fare a accedere a questa simulazione? Basta andare dopo essersi registrati sul sito di CISIA in questa pagina, quindi allenamento.cisiaonline.it e qui andate a selezionare quale delle tre simulazioni volete svolgere. Io ho risolto la prima, fatemi sapere come vi ho detto prima nei commenti se volete anche la soluzione del video per la seconda e per la terza simulazione. Come è composto il test di medicina nel 2023? Abbiamo 7 quesiti di competenze di lettura e conoscenze linguistiche acquisite negli anni per un totale di 15 minuti, quindi abbiamo 15 minuti per svolgere questi 7 quesiti. Poi abbiamo 25 minuti per 15 quesiti di biologia, 25 per 15 quesiti misti tra chimica e fisica e poi abbiamo 25 minuti per 13 quesiti di matematica e ragionamento logico, quindi matematica e logica. In totale quindi abbiamo 50 quesiti da svolgere in 90 minuti. Vi ricordo che abbiamo un punto per ogni quesito corretto, meno 0,25 per ogni quesito errato e invece un quesito lasciato in bianco non ci lascia né non ci dà né toglie punti. Prima di incominciare vi ricordo che sono disponibili i corsi di dentro la logica, quindi i miei corsi per la preparazione del test di ammissione, non soltanto a medicina, ovviamente anche a veterinaria, ingegneria e in generale a tutte le facoltà che prevedono un talk per il test di ammissione. Il corso completo di logica si articola su 67 video lezioni registrate, strutturate proprio come questo video che state guardando, per una durata di circa 25 ore. In queste 25 ore risolvo tantissimi quiz, ben 1200 quiz di logica, praticamente un libro di logica, e divido soprattutto i quiz in categorie. Questo corso va bene sia per la logica della pubblica che per la logica delle università private, quindi Cattolica, San Raffaele, Bocconi e così via. Poi abbiamo il corso completo di matematica, 20 lezioni registrate per una durata di circa 13 ore, sia teoria che quesiti, e risolvo in particolare 500 quesiti di matematica. E infine il corso completo di fisica, 18 lezioni registrate per una durata di circa 15 ore e 600 quesiti di fisica completamente risolti. Anche in questo caso affronto sia la teoria che i quesiti. Come fare a iscriversi a questi corsi? Ovviamente potete scrivermi su Instagram, quindi nei messaggi di Instagram, questo è il mio recapito, dentro underscore la underscore logica, oppure via mail, là dentro la logica, chioccia a gmail.com, oppure se preferite su un altro dei miei canali social. In qualsiasi modo potete contattarmi e vi dirò come si fa a iscriversi a questi corsi. Inoltre, per chi deve sostenere il test di medicina, abbiamo dei mini corsi intensivi per la preparazione del test all'università private, Cattolica, San Raffaele, Campus Biomedico e Unica Millus. In cosa consistono i mini corsi intensivi? In pratica vado a risolvere i quesiti delle prove degli anni precedenti. Ad esempio, per la Cattolica, risolvo le prove ufficiali dal 2017 al 2022. Ovviamente, se stai guardando questo video in un anno diverso, sicuramente avrò incluso anche la risoluzione dei quesiti degli anni successivi. Anche in questo caso potete scrivermi su Instagram, sulla mail oppure su Facebook, dove preferite. Partiamo quindi con il quesito numero 1 di fisica. Su una batteria trovate scritto 2000 mAh. Di che unità di misura si tratta? Quindi qui abbiamo mAh, quindi un sottomultiplo dell'Ampere, che è l'unità di misura della corrente, e qui abbiamo le ore, quindi l'unità del tempo. Ricordiamo la definizione di corrente elettrica, ovvero quanta carica attraversa la nostra sezione del filo, diviso il tempo in cui avviene questo attraversamento. Quindi quantità di carica diviso quantità di tempo mi dà l'Ampere. Effettuiamo da questa la formula inversa, quindi la quantità di carica sarà la corrente per il tempo, e quindi saranno Ampere per secondo nel sistema internazionale. Ovviamente carica per tempo, posso misurarli anche in mA per ore, e quindi mi daranno comunque una carica elettrica. Quindi è spazio corretto, in questo caso è carica elettrica. Questo tipo di esercizi, per chi ha acquistato il corso di fisica, è presente in questa lezione, quindi elettromagnetismo, circuiti elettrici. Inoltre qui ho riportato un'immagine di quella che è la batteria di un comune iPhone, dove potete vedere, osservare qui che c'è scritto 4500 mAh, infatti è proprio l'unità di misura della carica elettrica di una batteria, di un telefono, di un qualsiasi dispositivo elettronico. Poi sito 2, un defibrillatore interrompe montaneamente il battito cardiaco, scaricando sul cuore, attraverso due elettrodi, l'energia accumulata in un condensatore. Se il condensatore ha una capacità di 50 microfarad ed è caricato con una tensione di 4 kV, qual è l'energia associata a tale scarica? Abbiamo parlato dei condensatori in questa lezione del corso di fisica, quindi elettromagnetismo, fenomeni elettrici. Andiamo a ricordare che cos'è il condensatore. Abbiamo detto che è un dispositivo in grado di immagazzinare al suo interno una certa quantità di energia elettrostatica. È un po' come un secchio o una cisterna che può essere riempita con dell'acqua, invece il condensatore viene riempito con della carica e quindi immagazzina energia elettrostatica. L'energia immagazzinata all'interno di un condensatore è un mezzo c per delta b al quadrato, quindi un mezzo la capacità del condensatore che si misura in farad per la differenza di potenziale al quadrato e la differenza di potenziale si misura in volt. Il risultato finale ovviamente è un'energia e quindi saranno joule. Andiamo a sostituire i nostri numeri, quindi abbiamo un mezzo per 50 microfarad e quindi 50 per 10 a meno 6 perché abbiamo microfarad, per 4 per 10 alla terza in quanto sono kilovolt, quindi c'è un 10 alla terza, al quadrato. Andiamo a svolgere i calcoli, qui 10 alla terza al quadrato diventa 10 alla sesta che si semplifica con 10 a meno 6 ovviamente. Svolgiamo il calcolo e troviamo 800 mezzi e quindi 400 joule, quindi l'energia immagazzinata all'interno di questo condensatore è proprio di 400 joule, risposta B. Quesito 3. Una centrifuga da laboratorio ruota a 600 giri al minuto. Detta G l'accelerazione di gravità, quanto vale approssimativamente in funzione di G? il modulo dell'accelerazione centripeta di un campione che ruota una distanza di 12,5 centimetri dal centro di rotazione. Quindi abbiamo un esercizio sul moto circolare, quindi sulle rotazioni che potete trovare nel corso di fisica in questa lezione cinematica, moto circolare e moto armonico. Allora sappiamo che la frequenza deve essere espressa in hertz, che sono giri al secondo. Ci viene invece data in giri al minuto, quindi 6000 giri al minuto, andiamo a dividere per 60 per convertire minuti in secondi e quindi troviamo 100 giri al secondo, ovvero 100 hertz. La frequenza è legata alla velocità angolare da questa relazione, ovvero velocità angolare uguale 2π per la frequenza, quindi 100 per 2π, ovvero 200π radianti al secondo, perché la velocità angolare si misura non più in hertz, ma in radianti al secondo. L'accelerazione centripeta avendo la velocità angolare può essere calcolata in questo modo, quindi ω² per r, ovvero velocità angolare al quadrato, per il raggio, attenzione, il raggio ovviamente deve essere espresso in metri e non in centimetri. Quindi 200π al quadrato per 0.125, questo è i nostri 12 centimetri e mezzo, mi dà circa 50.000 metri al secondo quadro. Qui ho utilizzato un trucchetto, ovvero che π al quadrato lo approssimiamo circa a 10, quindi 50.000 metri al secondo quadro. Come facciamo a esprimere questo risultato in funzione di g? Semplicemente dividiamo per g, assumendo ovviamente g uguale 10 metri al secondo quadro e quindi scriviamo che l'accelerazione centripeta è 5000 volte g, quindi 5000 volte l'accelerazione di gravità. Quindi il risultato corretto in questo caso di domodossola. Poesito 4, ancora fisica, un combetto di ghiaccio di massa a 1 grammo fonda a 0 gradi. Quale di queste affermazioni è corretta? Allora sappiamo che durante la trasformazione di stato la temperatura del sistema resta costante, quindi quando il ghiaccio fonde diventa acqua o quando l'acqua solidifica diventa ghiaccio, è la stessa cosa, abbiamo che la temperatura del sistema resta costante, quindi non può aumentare la temperatura assolutamente né può diminuire la temperatura, quindi già possiamo scartare sia la A che la E. come fa a fondere il ghiaccio? Deve assorbire, quindi ricevere calore dall'ambiente esterno e quindi risposta C, in modo tale che questa energia che lui riceve dall'ambiente esterno riesce a, diciamo, rompere i legami, quindi a far avvenire la trasformazione più che rompere i legami, quindi a far avvenire la trasformazione e portare il ghiaccio sotto forma di acqua. La quantità di energia di cui abbiamo bisogno può essere calcolata da questa formula Q uguale a M per lambda, quindi quantità di calore uguale a massa del ghiaccio per lambda che è il calore latente di fusione del ghiaccio e quindi con questa formula possiamo anche calcolare quanta energia deve ricevere dall'ambiente esterno. Trovate questi argomenti in corso di fisica nella lezione termodinamica, calore e temperatura. Ultimo quesito di fisica, un corpo di massa 400 g viene appeso a una molla che ha una costante elastica di 49 N su metro. Qual è l'allungamento della molla nella posizione di equilibrio? Allora, trovate questo argomento in esercizio veramente identico a questo nel capitolo dinamica e i principi della dinamica e le forze sempre del corso di fisica, ovviamente. Allora, abbiamo qui la molla appesa al soffitto a cui è attaccato un pesetto di massa M. All'equilibrio la forza peso che vuol far scendere il pesetto quindi fa allungare la molla è uguale proprio alla legge di Huck quindi alla forza elastica K per Δx quindi massa accelerazione di gravità costante elastica della molla variazione quindi allungamento della molla variazione di lunghezza della molla effettuiamo qui la formula inversa e calcoliamo Δx che sarà M per G diviso K quindi la massa è 0.4 kg che sono i nostri 400 g convertiti in kg G utilizziamo sempre 10 m al secondo quadro e andiamo poi a dividere per 49 N su metro che è la costante elastica qui possiamo approssimare questo 49 a 50 per effettuare i calcoli più rapidamente e troviamo 4 cinquantesimi vi ricordo che 4 quinti è 0.8 e quindi 4 cinquantesimi sarà 0.08 metri di conseguenza 8 centimetri risposta D passiamo ora al quesito 6 della nuova sezione matematica e ragionamento vi ricordo che da quest'anno matematica è stata accorpata a logica per un totale di 13 domande che trovate appunto in questa sezione matematica e ragionamento in particolare il primo quesito è proprio di logica il seguente riepilogo mostra i valori ottenuti in due seggi dai tre candidati che hanno preso parte nell'elezione quindi bianchi 200 voti seggio 1 500 seggio 2 rossi 300 nel seggio 1 e 400 nel seggio 2 verdi 700 nel seggio 1 e 700 nel seggio 2 qua di queste affermazioni è vera allora andiamo a riportare in tabella questi voti quindi nel seggio 1 abbiamo un totale di 200 più 300 più 700 e quindi 1200 elettori nel seggio 2 invece 500 più 400 più 700 1600 elettori andiamo subito a scrivere le percentuali in ogni seggio di ogni candidato che ho riportato qui con i colori in modo tale da essere più chiaro quindi bianchi nel seggio 1 ha preso una percentuale di 200 su 1200 e quindi un sesto 16,6% nel seggio 2 invece ha preso 500 voti su 1600 e quindi 5 sedicesimi circa il 30% 31% invece rossi nel seggio 1 30 su 1200 quindi 25% un quarto nel seggio 2 400 su 1600 di nuovo un quarto 25% verdi invece nel seggio 1 700 su 1200 7 dodicesimi quindi circa il 58% nel seggio 2 700 su 1600 e quindi 7 sedicesimi circa il 43-44% andiamo a vedere quindi le affermazioni per cercare quella vera bianchi ha ottenuto una percentuale più alta nel seggio 1 che nel seggio 2 falso perché ha ottenuto una percentuale più alta nel seggio 2 verdi ha ottenuto una percentuale più alta nel seggio 2 che nel seggio 1 falso perché ha ottenuto una percentuale più alta in 1 che in 2 verdi ha ottenuto la percentuale di voti più alta nel seggio 1 che nel seggio 2 e questa affermazione è vera qui abbiamo il 58 e qui il 43 invece queste due sono false perché il rossi ha preso sempre il 25% in entrambi i seggi quindi sono false entrambe. Quindi la sposta corretta in questo caso era C. Per questa tipologia di esercizi vi consiglio proprio di ordinare i dati sotto forma di tabelle in modo da avere un'idea più chiara. Abbiamo affrontato esercizi di questo tipo nel corso di logica, in particolare nella lezione Interpretazione di tabelle. Quesito 7, qui abbiamo un silogismo di cui ho ampiamente parlato nel corso di logica con tantissimi esempi nella lezione appunto sui silogismi. Come sosteneva un antico filosofo, non tutti i tebbani sono mentitori, ma tutti i tebbani sono greci. Quale di queste affermazioni segue da questa premessa. Allora sappiamo che non tutti i tebbani sono mentitori, però tutti i tebbani sono greci, quindi dire tebbano equivale a dire greco. Quindi a questo punto io posso prendere la prima frase e cancellare la parola tebbani e sostituirla con la parola greco. Non tutti i greci sono mentitori. Quindi se non tutti i greci sono mentitori, esiste un greco che non è un mentitore. Quindi questa frase, non tutti i tebbani sono mentitori, diventa non tutti i greci sono mentitori e quindi esiste un greco che non è un mentitore. Risposta è. Quesito 8. A giugno 2022 Franco ha speso per l'energia elettrica il 125% in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Qual è il rapporto tra la spesa che Franco ha sostenuto per l'energia elettrica nel giugno 2022 e quella nel giugno 2021? Questo è un quesito sulle percentuali molto frequenti da sempre al test in medicina. Ho dedicato una lezione di quasi un'ora nel corso di logica delle percentuali che trovate appunto qui. Percentuali e frazioni. Allora andiamo a vedere come si risolve. Ipotizziamo ad esempio che giugno 2021 lui abbia speso 100 euro per l'energia elettrica. Se aumentiamo del 100%, questi 100 euro ovviamente diventano 200. Se aumentiamo invece del 125% troviamo 225 euro. Quindi giugno 2021 100 euro, giugno 2022 225 euro, ovvero il 125% in più. E adesso dobbiamo semplicemente fare il rapporto. Quindi giugno 2022 diviso giugno 2021, 225 euro su 100 euro, semplifichiamo dividendo per 25 e troviamo 9 quarti. Quindi il rapporto è 9 quarti, la risposta corretta è la A. Quesito 9 questa volta di sempre diciamo logica, matematica, ragionamento logico, inquadriamolo come categoria logica-matematica. Ne ho parlato anche in questa lezione sistemi di numerazione, sempre nel corso di logica. Quanti numeri interi positivi di due cifre hanno la cifra delle decine maggiore di 7 e la cifra delle unità minore di 3? Attenzione ovviamente alle parole che vengono utilizzate. Cifra delle decine maggiore di 7 vuol dire che può essere soltanto o 8 o 9. Maggiore di 7 devo escludere il 7. Minore di 3 invece vuol dire o 0, o 1, o 2, devo escludere il 3. Quindi è molto semplice costruire questo numero, in quanto l'unica decina può essere 8 con 0, 1 o 2, oppure 9 sempre eseguita all'unità 0, 1 o 2. E quindi i numeri sono 80, 81, 82, 90, 91, 92 e in totale sono 6. Quesito 10, qua è dei seguenti numeri, è più vicino alla radice cubica di 101. Di questa tipologia di quesiti, quindi in cui bisogna stimare i numeri senza calcolatrice, ne ho parlato abbondantemente sia nel corso di logica che nel corso di matematica. In una lezione, una delle prime lezioni che faccio in entrambi i corsi, che è quella di calcolo senza calcolatrice, quindi strategie per effettuare i calcoli senza l'utilizzo della calcolatrice. Come fare a stimare la radice cubica di 101? Andiamo a cercare qualche cubo perfetto vicino a 101. Sappiamo che 4 al cubo è 64 e 5 al cubo è 125, quindi la radice cubica di 101 sarà più piccola di 5 ma anche più grande di 4. Quindi l'unico numero qui che si avvicina a questo valore è sicuramente 5, quesito molto semplice tra l'altro. Quesito 11, questo riguarda sempre la matematica, in particolare le funzioni. Tre quantità x, y e z sono legate dalla relazione z uguale 2x meno 3y più 5. Se x diminuisce di un'unità e y aumenta di due unità, come varia z, allora dobbiamo concentrarci su questa funzione, quindi 2x meno 3y più 5. Allora se qui x aumenta di 1, l'aumento che subisce la mia funzione è di 2 per 1, perché qui ho due volte x. Se invece x diminuisce di 1, la diminuzione che avrà la mia funzione sarà di 2 per 1, quindi diminuisce di 2. Quindi se la x diminuisce di 1 unità, la z diminuisce del doppio e quindi diminuisce di 2 unità. Invece qui cosa succede? Abbiamo meno 3 volte y, quindi se y aumenta di 2 unità, questo 2 viene moltiplicato per 3 e in totale ho un meno 6, quindi meno 3 per il 2, che è l'aumento di y, mi trovo un meno 6 nella z. Quindi con la prima condizione diminuisce di 2, con la seconda condizione diminuisce di 6, in totale diminuisce di 8 unità. Quindi risposta B. Questito 12, la differenza tra le aree di due quadrati è 81 e la differenza tra i loro perimetri è 12, quanto è lungo il lato del quadrato più grande. Abbiamo svolto quei siti simili a questi nel corso di matematica, capitolo geometria glidea. Quindi andiamo a ricordare che l'area del quadrato ovviamente è il lato al quadrato, il perimetro invece è 4 volte il lato. Chiamiamo x il lato del quadrato più grande e y il lato del quadrato più piccolo. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo x al quadrato meno y al quadrato, ovvero la differenza tra le aree dei due quadrati, quindi area del quadrato grande x al quadrato meno area del quadrato piccolo y al quadrato. Questa differenza tra le due aree deve fare 81 e quindi qui abbiamo il nostro 81. Poi facciamo la differenza dei perimetri, quindi 4 volte il lato del grande meno 4 volte il lato del piccolo fa 12, quindi 4x meno 4y uguale 12. Qui posso anche dividere tutto per 4 e semplificare l'espressione e ottenere questa, quindi y uguale x meno 3 semplificando questa espressione. Quindi questo è un sistema di due equazioni incognite, è molto semplice da risolvere, l'abbiamo visto anche nel corso di matematica. Possiamo risolverlo col metodo della sostituzione, quindi troviamo y da qui, quindi x meno 3 e andiamo a sostituirlo qui, quindi x quadro meno x meno 3 al quadrato uguale 81. Svolgiamo i calcoli, qui semplifichiamo x al quadrato e troviamo che 6x uguale 90 e quindi x uguale 15. Quindi il lato è il quadrato più grande e quindi ci risposta è. Quesito 13. Quali delle seguenti equazioni individua nel piano cartesiano la retta che passa per il punto 1, 1, ed è perpendicolare alla retta di equazione y uguale 3 meno x. Questo è un quesito semplice di geometria analitica, trovate nel corso di matematica un'ora di lezione sulla geometria analitica in cui risolvo quesiti anche molto simili a questo. Allora il coefficiente angolare di questa retta, quella che mi è stata fornita, ovviamente è meno 1 perché è il termine che va a moltiplicare la x, quindi questa coefficiente angolare è meno 1. Una retta ad essa perpendicolare deve avere come coefficiente angolare di questa è l'antireciproco, quindi dobbiamo cambiare il segno e diventa più 1, quindi m uguale più 1. Quindi tra queste cinque devo andare a scegliere l'unica retta che ha coefficiente angolare più 1 e che ovviamente deve passare per questo punto. Questa ha coefficiente angolare meno 1 terzo, questa ha più 1 terzo e questa meno 1, quindi scartiamo la c, la d e la e. Restano solo la a e la b che hanno entrambe coefficiente angolare meno 1, anzi coefficiente angolare più 1. Tra queste due devo cercare quella che passa per il punto 1, 1, quindi cosa faccio? Sostituisco la x all'interno e devo ottenere di nuovo 1, quindi se qui vado a mettere x uguale 1, 1 più 3 mi dà 4 e quindi questa non va bene perché non passa per il punto 1, 1. Invece qui sostituendo x uguale 1 trovo anche y uguale 1, quindi la retta che io cerco è proprio y uguale x, ovvero la bisettrice del primo e terzo quadrante. Quindi questa retta y uguale x è perpendicolare a quella data e passa anche per il punto 1, 1. Quesito 14, questo quesito è sulla media aritmetica e ponderata, anche su questo nel corso di logica ho messo una lezione molto importante perché questa tipologia di quesiti è molto frequente al test di medicina, sia delle pubbliche che della privata. Allora, uno studente ha sostenuto alcuni esami universitari e la media dei voti conseguiti è 25. Oggi egli supera un nuovo esame con voto 30 e la sua media sale a 26. Quanti esami ha sostenuto lo studente, compreso quello di oggi? Allora, come si effettua la media? Si sommano tutti i voti e ovviamente si divide per il numero di esami e si ottiene il risultato. Qui non sappiamo che la somma dei voti fino a quel momento dello studente diviso n è uguale a 25. Quindi questo vuol dire che la somma dei voti che le ho ottenute è sicuramente 25 per n. Quindi la somma dei voti e gli esami fino a quel momento è 25 volte n. Possiamo ricalcolare la nuova media con questo nuovo esame 30. Quindi cosa facciamo? Alla somma dei voti, quindi a 25 n, andiamo a sommare il voto del nuovo esame. Quindi sommiamo 30 e dividiamo per il numero di esami, ovvero dividiamo per n più 1. Questo deve darmi come risultato 26 perché la nuova media è 26. Quindi somma degli esami col nuovo esame diviso numero di esami finora col nuovo esame uguale 26. Questa è una piccola equazione di primo grado fratta. Se la andiamo a risolvere troviamo n uguale 4. Attenzione però, 4 non è la nostra risposta perché 4 è il numero di esami che aveva sostenuto fino a quel momento, ma io devo aggiungere l'ultimo esame, quello in cui ha preso 30, e quindi rispondere n uguale 5. Passiamo ora al quesito 15. Una mosca ha 6 zampe e 2 ali. Una capra ha 4 zampe e non ha ali. Una gallina ha 2 zampe e 2 ali. Si vogliono prendere 7 animali scelti tra queste 3 specie, in modo che in tutto abbiamo 24 zampe e 12 ali. Quante galline bisogna prendere? Allora possiamo sicuramente impostare un sistema di equazioni. Di questa tipologia ne ho parlato abbondantemente nei testi di logica, quindi nel corso di logica, nel capitolo Sistemi di Equazioni, sia nel corso di logica in realtà, ma anche nel corso di matematica. Allora, la prima considerazione da fare riguarda il numero di ali, che sono 12. Se noi avessimo tutti animali alati, e ogni animale alato vi faccio notare che ha due ali, quindi sia le mosche che le galline, dovremmo avere 2x7 e 14 ali, ma invece di ali noi ne abbiamo soltanto 12. Questo vuol dire che uno dei 7 animali non ha le ali, quindi sicuramente tra i 7 animali scelti c'è una capra. Quindi c'è una capra che non ha ali, però ha 4 zampe. Quindi a questo punto noi, sapendo che c'è sicuramente una capra, dobbiamo trovare il numero di galline e il numero di mosche. Come facciamo? Andiamo a impostare un'equazione, quindi galline più mosche sono gli altri 6 animali, perché vi ricordo che su 7 uno abbiamo scoperto che è una capra, con il discorso delle ali. Poi, due volte le galline, perché ogni gallina ha due zampe, quindi ragioniamo sulle zampe, 2 per il numero di galline sarà il numero di zampe di gallina, quindi 2 per galline, più 6 per il numero di mosche, perché ogni mosca ha 6 zampe. Deve totalizzare il numero di zampe, che deve essere 20. Perché 20 e non 24? Perché già sappiamo, come ho detto prima, che c'è una capra che ha 4 zampe, quindi le togliamo già dal nostro ragionamento perché siamo interessati soltanto a galline e mosche. Quindi qui troviamo 6 perché abbiamo tolto una capra e qui troviamo 20 perché abbiamo tolto le 4 zampe della capra. Quindi questo è un sistema di due equazioni in due incognite, molto semplice da risolvere, lascio a voi la risoluzione, e troviamo 4 galline e 2 mosche. Quindi qui ci chiedeva quante galline, allora rispondiamo C4. Quesito 16, qual è l'area di un quadrato che ha i vertici su una circonferenza di raggio 4? Quindi geometricamente abbiamo una situazione di questo tipo. Questi sono i vertici del quadrato e ci troviamo all'interno della circonferenza. Abbiamo risolto un problema simile nel corso di matematica, sempre nella lezione di geometria euclidea. Allora, in questo caso è facile vedere che il diametro della circonferenza coincide con la diagonale del quadrato all'interno, quindi diametro, ovvero due volte il raggio, è uguale alla diagonale del quadrato, quindi lato per radice di 2. Da qui possiamo ricavare il valore del lato, quindi 2r diviso radical 2. r è 4 cm, quindi 2 per 4, 8, 8 diviso radical 2 cm. Quindi abbiamo trovato il lato del quadrato. Andiamo a calcolare l'area come lato al quadrato. Quindi effettuiamo il quadrato di questo numero, 64 diviso 2, 32 cm quadrati. Quindi l'area del nostro quadrato è 32 cm quadri. risposta B. Quesito 17. Questa è una disequazione esponenziale. Ne abbiamo parlato a lungo nel corso di matematica, proprio nel capitolo della lezione sugli esponenziali, dove abbiamo visto equazioni e disequazioni esponenziali. Quindi qual è l'insieme delle soluzioni reali della disequazione? Un mezzo elevato a 1 meno x minore di un ottavo. Come si risolve questa disequazione esponenziale? Innanzitutto un ottavo lo vado a scrivere come un mezzo elevato alla terza, in questo modo la stessa base. Avendo la stessa base posso passare a studiare soltanto gli argomenti, quindi 1 meno x è 3. Ma non andrò a scrivere 1 meno x minore di 3, perché quando si passa agli argomenti e la base di un esponenziale è minore di 1, come in questo caso perché un mezzo è minore di 1, devo andare a invertire il verso e la disequazione, quindi avrò 1 meno x maggiore di 3. Risolviamo questa disequazione di primo grado e troviamo x minore di meno 2. Quindi in questo caso la risposta corretta è tutti i valori di x minore di meno 2. Ultimo quesito della sezione matematica e ragionamento e anche ultimo quesito di questo video. Un'azienda identifica ciascuno dei propri prodotti con un codice di 8 caratteri alfanumerici con le seguenti proprietà. I primi tre caratteri sono soltanto delle lettere. Ogni cifra pari è immediatamente seguita da una lettera. Ogni cifra dispare è immediatamente preceduta da due lettere. Qual è l'unico dei codici proposti che ha tutte e tre le proprietà? Questi di questo tipo li ho inclusi nel corso di logica nella lezione crittografia e cifratura. Allora andiamo a vedere perché possiamo scartare delle soluzioni. Ad esempio la A può essere scartata in quanto il 9 non è preceduto da due lettere, ma abbiamo qui il 4. Quindi non verifica il fatto che ogni cifra dispari deve essere preceduta da due lettere, quindi la A non va bene. Andiamo a vedere la B. La B la possiamo scartare in quanto il terzo simbolo è un numero e invece i primi tre caratteri dovrebbero essere delle lettere, quindi scartiamo anche la B. Andiamo a vedere sulla C. Possiamo scartare la C in quanto il 4 è seguito da un altro numero invece che da una lettera. E qui ci viene detto che ogni cifra pari è immediatamente seguita da una lettera e quindi non va bene neanche la C. Andiamo a vedere la E. Possiamo scartare la E in quanto il 6, che è pari, non è seguito da una lettera, poiché è l'ultimo numero di fatto. Quindi neanche la E va bene e l'unica risposta corretta in questo caso è la D. Con questo quesito si conclude questo video. Fatemi sapere nei commenti se volete anche i video sulla simulazione 2 e la simulazione 3 di allenamento che trovate sul sito Cisia. Se avete dubbi scrivetemelo nei commenti e come sempre vi invito a iscrivervi al canale e arrivederci a un prossimo video.